eeeh bello a tutti ragazzuoli bentornati sul canale col boss alle ben 86 buon martedì 30 aprile a tutti bedazzi ovviamente voi state vedendo il video di martedì ma io lo sto registrando di lunedì e quindi come dico io iniziamo la nostra settimana videoludica nuovo video stesso gioco siamo sempre sul pezzo con i football 2024 se ti fa piacere rimani sintonizzato sul video perché tra poco si parte dal titolo e dall'immagine di copertina avrete già capito il tipo di contenuto raga l'abbiamo rifatto dopo il 4222 e il 424 arriva un 4114 fotonico raga fotonico script a favore script a sfavore già testato in amichevole già battezzato in dream team nel campionato di football dove il matchmaking non è stato abbastanza meritocratico per il vostro alle beni quindi il modulo l'ho testato con avversari che sapevano il fatto loro top 200 top 100 ho detto sai che c'è il modulo gira e da condividere con la community perché tanto siano tutti sulla stessa barca raga se non siamo pro play e oggi gira domani non gira quindi voi provatelo perché tanto lo so che lo provi lo proverete come avete provato il 424 fotonico che è girata in mezza community raga provate sto modulo poi mi fate sapere quindi tra poco si parte però regà prima di partire facciamoci gli oneri di casa perché dobbiamo farceli regà allora se i contenuti del vostro alle beni vi piacciono vi invito a lasciare un bel like di supporto regà e se la tua passione ti spinge per la prima volta sul mio canale youtube ti invito a iscriverti e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti che arriveranno adesso non ci perdiamo in chiacchiere l'attesa è finita si comincia vamos ole bedazzi come di consitudine chi mi segue chi mi conosce lo sa finito di finito di ciavagliare mo mo bonus d'accesso giornaliero playstation 5 appena accesa e caffettino regà se no non iniziamo neanche regà e si garettino allora riscattiamo tutto che è lo nostro ok preparatore di posizione pure che per il momento siamo riusciti a dare solo il trequartista il giocatore chiave direttamente dalle spiagge di copacabana de nilson per il resto è una mezza ladrata regà perché non poche volte si scula la posizione da dare a chi desideriamo però ci pigliamo novità allora vedete novità novità nedved la furia cieca direttamente dall'olanda che giocava il calcio il pitbull edgar davitz e a lavorare il cuorio demetrio albertini nuovo pull ci buttiamo subito un occhio regà io volendo le spacchettate sponsorizzate dal mio team e sport outplayed con a testa il socio più socio che c'è però ho un budget annuale quindi mi sa che lo schippo regà perché lo schippo perché sì che sono juventino sono for fan dei pallone d'orio la furia cieca davitz ma da quello che ho capito davitz è incontrista regà e io c'ho già viera se era onnipresente potevo andare a mettere il coltello andare no il coltello andare dal socio e dire socio cacciabile socio e invece mi sa che lo schippiamo regà aspettiamo cacà vediamo albertini 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 è tra le linee albertini tra le linee non è pirlo secondo me regà ottima carta ottimo tra le linee ma secondo me pirlo fa un altro mestiere come tra le linee alla prolifica giocatore chiave nedved trequartista forma incrollabile giocatore chiave nedved regà non è skillato però non è skillato però questo qui è un cartone regà io me lo aspettavo alla prolifica non giocatore chiave non ho seguito niente da nessuno ho visto solo il route glory del nuovo contenuto fotonico del socio che vuole arrivare in prima con una squadra free visto che ci scassano la minchia gli haters che sono sempre presenti regà giocatore chiave pavel è attenzione alla furia cieca io 1800 monete c'è 1900 monete c'è io ancora da Ronaldinho regà perché non abbiamo non abbiamo avuto le mani bucate le abbiamo risparmiate ma con due giri non me lo dà con due giri non me lo dà pool da schippare però nedved giocatore chiave con la scusa che mi sono fatto inculare dalla community e ho perso la scommessa la challenge ho dovuto svincolare Johan Cruyff magari me lo dà secondo me no però sapete che c'è da allungare il brodo da fare diventare il contenuto più ciccio perché so che a voi che siete ludopatici queste cose qua vi piacciono regà e quindi quelle 1900 monete per tenerle lì fotte sega regà facciamo due multiple e una singola partiamo con la singola vediamo magari arriva pavel del giocatore chiave no bianca brocco più brocco che non si può questo qui senza neanche vedere non lo conosce neanche sua madre sicuro proprio lui eccezionale eccezionale chi è pazzesco e qui si scasserà da no vabbè regà voi non potete capire io sto è nata un'amicizia con un ragazzo del sud del buonanto direttamente dalla calabria che gioca i football si starà scassando da ridere perché vuole che mi faccia i capelli come lui salberto regà con la cagata di piccioni in testa luisa alberto guardate non lo svincolo neanche regà lo tengo solo per ricordo lo tengo solo per ricordo non troverà mai spazio nello scarsano adesso facciamo le due multiple regà milleotto sotto la cam voi non vedete una e poi partiamo subito col modulo fotonico regà dai schippa luce bianca arcobaleno da crisi epilettica lo stadio chi è questo maglia del milan se ci vedo ancora bene sì regà ma regà ma non ci credo regà ma non non dall'animazione non non era un cazzo di nessuno c'è luce bianca stadio colorato arriva il tra le linee regà con non c'è ma è nascolata regà penso che l'incredo cioè sono incredulo si legga in volto regà dimetrio albertini attenzione facciamo salire l'entusiasmo direttamente dalla milano che giocava al calcio arriva il tra le linee più forte dello scarsano perché io avevo solo giocatori base di quello stile lì andiamo a vedere che lo affianchiamo subito questo qui sa lavorare il cuoio regà più forte pirlo ma non c'è è nascolata regà pazzesco ce lo prendiamo demetrio albertini un altro italiano in campo facciamo una full italia tra poco facciamo una full italia regà si presenta così con 84 dvgg stile tra le linee mediano può fare anche il centrocampista centrale e quello andrà a fare non il mediano il centrocampista centrale forma incrollabile 35 livelli di crescita tecnica booster sempre attivo alle statistiche controllo palla dribbling e possesso stretto e passaggio raso terra questo qui c'è i piedi buoni dovrebbe avere i piedi buoni regà ovviamente secondo me non è il più forte del pool il più forte del pool era pavel nedved giocatore chiave condizione booster sempre attivo lo andiamo a livellare subito regà e quindi sale l'entusiasmo eh un altro epic che va a rafforzare lo scarsenal che ormai non è più scarsenal regà ma è uno squadrone fotonico e dove cazzo lo metto adesso questo nel modulo nuovo regà lo teniamo buono ma io il video è per il modulo regà il video per il modulo quindi abbiamo trovato demetrio albertini che in un secondo momento lo andremo a livellare maxare al massimo e fare una build cercando di fare una build degna quindi torniamo indietro regà torniamo indietro tubigham insieme a lui deron niente di che regà niente di che pazzesco scolato un epic così grazie conami continua dai torna indietro ok così regà siete pronti sì che siete pronti siete l'ultras dello scarsenal torniamo indietro avanzano 900 monete le lasciamo lì 139 di 150 arriva un epic va bene allora torniamo indietro regà lo scarsenal si presenta così e poi andiamo dall'idolo delle folle a tirare il calcio di rigore bam 4 1 1 4 fotonico regà allora partiamo dal basso portiere offensivo peter check booster 103 di overall ho rimpianto casiglias ma i pest dragons che fanno un altro mestiere avevano ragione regà ottimo portiere anche lui non posso dire il contrario io ero for fan di casiglias perché è stata la mia adolescenza ma check in game è molto 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 forte soprattutto se sapete usarlo in manual poi difesa quasi tutta italiana regà billy nazionale out di destra impostato difensore centrale anche se terzino offensi difensivo coppia centrale difensiva lo zio bergomi senza baffo che già pecca di presunzione di esperienza no di presunzione di presunzione pecca lui regà secondo me tanti dicono cannavaro io non ce l'ho non l'ho provato l'ho provato in cop secondo me maldini è l'incontrista difensore centrale più forte del gioco regà più forte del gioco poi a sinistra prende il posto roberto carlos regà terzino offensivo che poi andiamo a giocare sulle istruzioni individuali davanti alla difesa palesa mediano incontrista patrick vierà anche qui poi andiamo a giocare sulle istruzioni individuali davanti regà è molto simile al 4 2 4 solo che qui c'era al centrocampista e adesso diventiamo ancora più offensivi full offensive come va va l'importante divertirsi regà al posto del centrocampista centrale noi ci piazziamo il gioco abbonito direttamente da porto allegre ronaldinho gaucio trequartista davanti a lui out di sinistra neymar creativo out di destra messi tagli al centro impostati come seconde punte regà davanti issium opportunista e altro opportunista ho provato il rapace d'aria cambia da così a così ci vanno due opportunisti lì regà vinicius delicius le istruzioni individuali sono così regà io do il difensivo per nerfargli la passiva terzino offensivo e farlo rimanere dietro perché se no con contropiede veloce c'è da impazzire infatti se avete l'occhio lungo lungo e spero non solo quello vi siete accorti che clop prende il posto a xabi alonso perché konami non è del mestieri non so che cazzo hanno combinato con sta cpu ma xabi alonso anche se ha lo stesso stile contropiede veloce di clop e dovrebbe essere più forte la difesa regava scusate il francesismo a troie regà beati loro ma è difficilissimo difendere con alonso e quindi l'intelligenza tattica mi ha fatto fare un passo indietro e ritornare a jürgen klopp tanto 87 di 88 non cambiano cazzo regà poi difensivo a roberto carlos così mi sta dietro difensivo da nerfargli la passiva incontrista al mediano incontrista patrick viera e il contropiede lo diamo solo al sium regà solo un giocatore gli altri li lasciamo liberi di cpu sia neymar sia messi tagli al centro sia vinicius delicius tattica secondaria la tattica secondaria io switcho a questa regà così questa qui è la mia tattica secondaria la difesa rimane pressoché identica il mediano pure solo che invece di avere un uomo lì ne metto due per avere più possesso a centrocampo regà impostati tre quartisti non sp e quindi il baricentro è un po più basso si accorcia la squadra e davanti gioca tre invece che a due neymar che va a fare l'SP centrale e i due opportunista che si allargono un po per lasciare spazio al terzo lì in mezzo se no si pestano i piedi regà voi in primis provate questo qui regà in primis provate questo qui che è il modulo di partenza che si starta poi se volete abbinarci la tattica secondaria la tattica secondaria io vi consiglio vi consiglio di impostare una un modulo che avete masterato proprio bene voi con i movimenti per creare per creare la manovra non per forza dovete copiare questa come primario questo qui lo dovete provare regà cosa che noi andremo a fare tra poco per quello di qualbertini dove cazzo lo metto regà non va bene qui non va bene perché se tolgo digno ok fa il centrocampista centrale albertini ma scusa cioè albertini albertini ronaldigno e ronaldigno regà quindi torniamo indietro regà siete pronti l'attesa è finita si comincia andiamo dall'idolo delle folle accendiamo un'altra sigarettina e scarica e poi mancano 50 punti per la prima divisione regà parte lui proprio lui eccezionale la butta là e andiamo avanti andiamo avanti di 6 vai skippa skippa ne avanzano 15 ancora te rigori e poi konami ci regala il caffè 100 monete pari a un euro regà non si vergognano non si vergognano regà è così loro non si vergognano di dare 100 monete dopo tutte le ore che uno ci passa sul loro prodotto che è poco più di una demo regà la passione prende il sopravvento e quindi riscattiamo tutto passione che tra un po' andrà a scemare regà perché ho fatto già lo speed test a 92 di ping che interagisce con me sul mio gruppo telegram ha già visto il tutto regà ha già visto il tutto gruppo telegram in descrizione regà quindi venite a condividere la vostra passione unitevi a noi oggi è entrato un certo renzino lo scandalo all'interno della le benny crew regà porca puttana sta arrancando tutto e tutti spammato 75 partite ne ha persa solo uno in top 10 regà pazzesco e noi ci lamentiamo dello script allora regà cosa vi dicevo modulo gira avversari avversari tosti regà questo qui era fotonico regà trentesimo al mondo quarantesimo questo qui ne è un altro questo qui ne era un altro eh abbiamo vinto top 200 regà questi qui sanno il fatto loro regà potevo avere script a favore lo scarsano non a favore però secondo me il modulo gira per quello ve lo condivido allora poi è arrivato un pareggio e ci siamo fermati 1735 regà tre quattro partite vinte significa prima divisione regà è inutile perdersi in chiacchiere la verità eh ovviamente in quelle quattro partite magari si inciampe quindi poi magari ce ne è da spammare altre due siamo lì regà siamo lì quindi si parte primo sfidante di giornata qui stoppo e riavvio vamos vediamo momi scripta un avversario fotonico eh sicuro stiamo a vedere avversario trovato cinque tacche che accettiamo al primo colpo dai spapu spapuali atalanta twitch regà chissà se è live chissà se è live minchè anche tre giorni di panico eh tre giorni di delirio su youtube regà tutte le football championship open in live mi sono giocato venti partite regà tra sabato e domenica no venerdì sabato e domenica me le sono divise ho fatto cinque partite poi sei e e poi ieri cosa ne ho giocate otto supporto della madonna regà supporto della madonna mi avete dato venticinque trenta spettatori anche se non ho mai fatto live costanti vamos lo scarsena sta lo scarsena al sta regà lo scarsena al sta la fascia di capitano che va il sium perché maldini aveva lavorato cuoio e tibie dell'avversario aveva preso un cartellino rosso oggi ritorna però a comandare la linea difensiva regà lui si presenta ok ci abbia l'onso squadrone anche lui fotonico sulla carta 3172 è anche più forte di noi forse nedved quella carta lì mi sa che è quello nuovo regà ha già scioppato l'ha già preso trequartista 103 attenzione eh dobbiamo stare sul pezzo regà lui è pronto proviamoci questo qui secondo me sa il fatto su regà sa il fatto su a fine partita andiamo a vedere se sa il fatto su dove militava il bro adesso mo cerchiamo di di rimanere concentrati e che il ping non gioca brutti scherzi 92 è altissimo regà però magari in peer to peer esce la partita abbastanza fluida lo stesso spero in quello vamo se regà buona visione batte lui e quindi attacca bassa kickoff da destra a sinistra scarsena Roby non uscire bravo Roby bravo Roby Cristiano la vuole a rimorchio attenzione subito il modulo fotonico la Benny Special che entra parecchia per Vinicius a Rauio però al posto giusto Roby uh la liscia la liscia Pavel che attacca la profondità tutta di là subito regà porca puttana cambia il parziale se al sotto subito liscio di Roberto Carlos Pavel Nedved attacca la profondità la mette in mezzo e Jean-Claude Van Damme la butta dentro partiamo male regà attacche basse che non ci hanno servito a nucazze di niente ancora a Rauio ma manca una vita regà adesso la liscia lui di vai Kree vai pressalo eh scullare in pallo dai vieni giù forte vieni giù forte Kree vieni giù forte Kree palo sfiga nei mani rigore era nell'astico ha preso le gambe era rigore regà calma 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 ancora liscio di Billy liscio di tutti regà tutti mi stanno lisciando tutti regà a Rauio che esce che rischio Billy portala portala Billy portala Neymar partito nooo sei anni in ritardo regà niente c'è una croce regà non mi rispondono quei bastardi di Babybel non mi rispondono è diventato come Eolo devo star concentrato no 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 era in pallo così madonna Pavel col mancino ci prova la botta andiamo da Kree mettiti davanti col cancel Kree no protegge beh sì buona Leo buona Leo rientra Leo tutto chiuso sì ancora adesso madonna sto Rauio regà sto Rauio Robby sei più veloce lui rientra sa il fatto suo regà sa il fatto suo numero l'appoggi in mezzo ma gliela lascia lì eh niente regà fatica fatica lo scars regà fatica lo scars se no voi direte nicchè modulo di merda no regà no regà kickoff è un'azione sculata era già lì non riesco a passare non riesco a passare queste qui erano tutte azioni che andavo in porta con un ping sui 20 millisecondi 90 provateci questo era un doppio tocco regà messi sale in cattedra regà quello era un doppio tocco regà è andata bene lo stesso regà finta di corpo che entra tiro a giro col mancino più famoso del mondo no forse è quello di Diego Armando Maradona il sinistro più famoso del mondo vabbè messi non è da meno regà kickoff kickoff palo è andata bene e ritorna addosso via guarda 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 che pacciugo quello è ritardo così ero su quadrato allora la riapre lo scarsena zio fai lavoro sporco zio che sei quello che ha più centimetri di tutti dominio palle alte ce l'hai zio Patrick Araujo rimane lì autogol questo era un autoblock di merda si pestano i piedi cpu una merda regà niente regà guarda qua guarda qua sono i soliti problemi di programmazione di un gioco di merda che non ci possiamo fare niente 3 a 1 proviamoci lo stesso regà proviamoci lo stesso l'avversario sa il fatto suo regà io voglio vera brutta palla persa perché voglio fare la crocca ci prova sa fare il finest allora questo qui non è una seconda divisione perché seconda divisione senza senza offesa regà tante di queste cose non le sanno fare questo qui è un ex prima divisione 100% 100% ma noi siamo lì per lottarcela la prima divisione quindi è giusto così che il livello sia più alto è giusto così regà attenzione che switcha Rauio attenzione che adesso lo manda incontro di corsa Billy via chi c'è Neymar tutto chiuso vai si contropiede fotonico lui stringe giustamente proviamo ad alzare la si frizza si è frizzato si continua a frizzare l'avevano tolto ecco la 3.0 il frizz sull'L1 triangolo alla PES l'hanno rimesso regà costa 3.5.0 che è una merda un gameplay così di merda era mesi che non lo vedevamo Vinicius taglia bravo rigore rigore se lo cerca io volevo il tiro a giro però con ritardo non sono riuscito a tirare ci siamo presi il rigore ce lo prendiamo Billy stai zitto che mi hai dato una tacchettata nelle tipie adesso vediamo se scugliamo regà Ronaldo lui indica di là e noi cerchiamo di non farci inculare andiamo dalla parte opposta eh sto giro fa il buffone ma lo prende il brothers e quindi è 3-2 3-2 tutti in ballo ancora regà proviamo tacche basse occhio a kickoff per vie centrali vigno eh non vale le 2 regà sì così minuti scriptati cvp gamma regà 3-1 3-3 cvp gamma regà viene giù fortissimo sto modulo è che c'è ritardo e non riesco ad esprimermi regà ma se fate xxxxx attacca la velocità della luce messo malissimo riesce ad uscire Roby via lei che è finita sì l'ultimo eh aravuio regà aravuio di che cazzo parliamo regà l'hanno programmato malissimo è baggatissimo baggatissimo regà andiamo andiamo regà proviamo a portarcela a casa regà proviamo proviamoci con 20 di pig ne avevo già fatti 6 regà senza peccare di presunzione perché magari c'è qualcuno che viene per la prima volta sul canale e dimmi ma come è convinto questo tutto chiuso tutto chiuso nelle due ancora che non entra non entra nelle due cioè la palla si alza in automatico dribbling di Leverta lo scarsano l'ha messo bene però trova il pertugio lo stesso esce palla al piede adesso viene giù forte lo scarsano è tutta di là arauio arauio tutta bellissimo mandalo al bar si porca puttana Neymar questa animazione falta Digno ma lui non gioca con te Digno rimpali brutti rimpali brutti raga è entrato deve rientrare occhio che va sul fondo adesso bravissimo raga bravissimo col dribbling di Leverta esagero coglione io che non l'ho shoppato Rijkaard coglione io che non l'ho shoppato raga porca puttana raga Rijkaard provaci un cancel mandalo al bar non entra sta skill raga non entra più non è più pesse raga non è più pesse tutta bella questa è entrata raga se non andava in porta occhio l'1-2 via quadrato fatica adesso fatica adesso si fatica bravo Patrick porta portala digno non si fermano più raga ma anche a 90 dip ma sai quante cazzo di partite avrei vinto in più finals in manual ma sapete quante cazzo di partite avrei vinto in più io in sta season se il ping era stabile come all'inizio a 10 millisecondi e non a 70-90 una marea raga eravamo già in prima raga eravamo già in prima miracolo via Billy madonna mia raga che miracolo che mi ha fatto 71 diamo freschezza diamo freschezza Kylian va bene Ronaldinho che va qui Neymar è bollito e qui ci va De Nilsson giocatore chiave raga che può farlo adesso lasciamola così voglio vincerla un uomo in più su contro piede ambape voglio provare a vincerla raga non mi accontento del pareggio chi è che si accontenta del pareggio mica dice la partita promozione e anche se pareggio vado in prima è una partita come le altre raga marcissima per colpa del mio king porca troia vamos spapu ali twitch che sa il fatto suo eh cioè lui non c'entra un cazzo raga se io c'ho la connessione dei Flintstone ma il D-Nicola 14 cosa si fa raga aveva la 3 occhio allo schema occhio allo schema bravo chi c'è chi c'è va appena entrato porta la chiglia portala e lui tempo reggia lo sa Kree no 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 Ale no chiudilo po' bravo dietro perché non spazi Ale perché non spazi con quadrato Ale così Kree tienimela su Kree buona Kree Kree yes Cristiano Ronaldo vamos 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 raga doppia attacca giù grande Cristiano questo col kickoff questo vanno avanti col kickoff raga tienilo oh mi uccide via digno subito buona di tacco ancora a sium a contrapiede fotonico vai vai ancora sium madonna rauio regà che forte salta zio patrick dietro digno così così annulla eh nè vede regà sì tutta madonna è brutta regà occhio tienilo bravo billy madonna che fatica regà non uscire non uscire porca puttana che non me l'ha presa miracolo via via rimane lì guarda guarda madonna regà ma perché ma perché deve essere così un gioco di merda regà dai non ce la fa portare a casa non ce la fa io non so renzino regà non riesco ad aggirarle se cose che cazzo dovevo fare più che incollarmi sul quadrato regà ce l'ha fatta pareggiare in quei gol minuti marci eh vabbè ci sta niente basta vogliamo il tilt è inutile va bene lo stesso questo qui non è un seconda divisione l'accettiamo più facilmente la sconfitta 100% prima divisione gira il cazzo però gira il cazzo che voi non sapete quanto perché minchiala stavamo per portare a casa con 90 di ping con uno che di sicuro non ce li ha 90 di ping riesce a giocare sto facendo il doppio della fatica Konami deve scriptare Konami deve scriptare per forza per accontentare tutte e due prima ha accontentato me al 44esimo con un gol scriptato adesso ha accontentato lui al 90esimo eh va bene va bene dai va bene lo stesso siamo tutti sulla stessa barca raga siamo tutti sulla stessa barca e quindi ci prendiamo un gulo oggi domani lo mettiamo in gulo noi scusate il francesismo ma è così raga gol palesemente scriptati sia il mio al 45esimo sia il suo al 90esimo è strutturato così il codice del gioco raga adesso quanto manca adesso lui la vuole vincere raga la voglio vincere anch'io però Konami accontenta tutte e due con un bel 4 a 4 vediamo chi dà punti se me li toglie e anzi mi ritengo soddisfatto raga che tengo botta con 90 le pinga le onde radio un minuto allora proviamo un kickoff no eh finisce così partitone se non avevamo fatto la presa di coscienza che tutto quello che può arrivare deriva da non sempre dalle nostre mani ma tante volte dallo script no raga non è un partitone raga è una partita marcia scriptatissima raga ci è andata bene 4 tiri 4 gol quindi tanti vedranno solo le statistiche e diranno eh minchia ti è andata fin troppo bene eh sì che mi è andata fin troppo bene raga vorrei vedere la community giocare con 90 di ping contro questo che sa il fatto suo cosa ci faceva però ce lo prendiamo raga ce li da 4 punti continua a pareggiare lo scarsano a non vince 3 a 3 al novantesimo anche l'altra partita 4 a 4 al novantesimo top 1000 top 1000 raga si vede cioè se uno arriva a sti livelli poi te ne accorgi raga quando uno è forte e quando uno non è forte questo era forte ci pigliamo il 4 a 4 oggi a lui a me domani a me domani a voi allora il modulo gira raga il modulo gira 4 a 4 con 90 di ping con un top 1000 viene giù fortissimo sto modulo beh gazzi il video giunge al termine grazie mille se siete arrivati fino a questo punto del video portate pazienza esperienza videoludica di merda ma con un ping così è ingiocabile raga il vostro relle Benny vi saluta e vi rinnovo l'appuntamento a un prossimo contenuto sui football ciao bentazzi playstation ciao